Ci vediamo nella piazza, vogliamo raccontare una storia. Voi tutti, voi siete invitati in delle piazze, noi deve raccontare una storia a voi tutti, siete invitati a tutti di voi. Volete sentire una bella storia? Venite alle piazze, delle piazze. Tutti ragazzi, vieni, ti aspettiamo. Voi siete pronti a ascoltare una storia? Voglio tutti venire per questo teatro. Vi aspettiamo nelle piazze, noi siamo pronti. Io ci sto. Anche noi siete pronti. Anche noi. Anche io. Se voi volete sapere la cosa. Quando io parlo, tu parli. Quando io parlo, tu parli. Buongiorno. Io gli dico, signore e signorina, ti dico buonasera a voi tutti. Io gli dico, voi siete invitati a voi tutti. Anche parli un'altra cosa. Dai, parli troppo. Ehi, che? Vai. Signore e signorina, buongiorno a tutti voi. Voi tutti siete invitati. Davvero, eh? Vai, ridillo. Voi siete pronti a ascoltare una storia? Aspetta, aspetta, aspetta. Io non ero pronto. Tu sei pronto? Lui, lei. Siamo tutti pronti? Un'altra volta. Un'altra volta. No, 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 falla un'altra volta. Dilla di nuovo. See it again. No, 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 falla un'altra volta.